Lui è Edoardo Savino, campione italiano categoria Junior B e campione europeo di Minimoto 2020 Edo31, come si fa chiamare in pista, a soli 9 anni ha già vinto due campionati interregionali Minimoto Un campionato in Andalusia con l'Ovale, due campionati italiani, un trofeo Simoncelli, una Coppa Italia e un campionato europeo Sì, perché alla sua prima esperienza assoluta nel campionato europeo nel 2019 la vittoria gli era mancata per un soffio ed era arrivato secondo Edoardo Savino! Oi! Come hai potuto passare ad Andres? Raccontami come sei riuscito a passare ad Andres Ho fatto alla schierta, l'ho fatto a schierta, direccia Fa parte dei 23 piloti della velocità Talenti Azzurri Un progetto di portata nazionale intrapreso dalla Federazione Motociclistica Italiana E rivolto alla ricerca e alla crescita di giovani piloti italiani Con i suoi 9 anni è il pilota selezionato più giovane di tutti La federazione ha voluto premiarla per il suo comportamento ed i risultati sportivi conseguiti Davvero un bel palmares, no?